Anteprima mondiale al Volvo Studio di Milano, debutta Volvo X30, la piccola di casa 100% elettrica. Ecco a voi allora una piccola preview, ma per l'approfondimento vi aspetto come sempre in tv. È proprio vero che nella botte piccola ci sta il vino buono ed è X30, lo dimostra. Una piccola sì, ma davvero ricca di contenuti, nulla da invidiare alle premium della casa. Una vettura 100% elettrica, attenta cura nella progettazione e nello sviluppo. Materiali riciclati come le plastiche e anche i tessuti, come i sedili, sono stati realizzati, pensate addirittura con il jeans. Volvo vuole arrivare preparata a quella che sarà la transizione energetica, grandi obiettivi per il 2040. Anche con questa vettura dimostra proprio di essere sulla strada giusta. Ovviamente non solo sostenibilità, ma anche sicurezza. Un tema molto caro all'azienda svedese e qua in termini di sicurezza predittiva non rinuncia proprio a nulla. Grazie. Grazie. Grazie.